Io devo ringraziare Luca per la sua grande capacità di essere un grande formatore di relazioni, di gruppi veramente degni di questo nome. Infatti la cosa che mi è piaciuta di più e per cui lo ringrazio di più è proprio aver creato questa rete in cui ci sono tantissimi collaboratori in cui ci sono un sacco di amici e in cui ognuno può veramente tirare fuori quello che è e confrontarsi senza paure, senza invidia e senza avere la paranoia di sbagliare o di chiedere la domanda che dimostra che magari non ti ricordi quella cosa. La cosa meravigliosa nel nostro gruppo e adesso abbiamo appena fatto questa cosa a Livorno che è stata veramente stupenda. Io vi consiglio di venire una volta a vedere una di queste conferenze, uno di questi eventi perché come potete immaginare sono abbastanza refrattario agli ambienti, buonasera, agli ambienti un po' troppo formali, un po' troppo rigidi. si sono dell'idea che ognuno dovrebbe potersi esprimere come meglio crede e Luca mi dà questa possibilità per cui lo ringrazio tantissimo di questo e lo ringrazio perché sta veramente creando una rete di professionisti e di persone al di là della professione profondamente connesse che hanno un disegno comune. Quello di cui io mi occupo è bello perché ogni volta per Luca è una cosa diversa. Faccio lo psichiatra alcune volte, il medico cinese altre, il fricchettone o lo stregone, si passa un po' di vari livelli. Ma quello di cui io mi occupo in realtà e per cui ringrazio appunto Luca di avermi dato la possibilità è la medicina dell'uno. Io credo che la medicina sia una e che debba riguardare l'uno, cioè l'essere umano in tutte le sue componenti. Io per cercare di avvicinarmi a questo, oltre il dilemma cartesiano o il disastro cartesiano che ci portiamo dietro da centinaia di anni ormai, ho fatto il mio percorso, quindi l'ho fatto prima come paziente con una bella intestina irritabile, quindi una cosa che all'inizio era una malattia immaginaria, poi sono riuscito a tirarmi fuori da quella cosa grazie a un medico che è molto bravo, che faceva già medicina integrata, agopuntura eccetera, da cui poi ho imparato l'agopuntura. Quello che porto avanti io dentro la medicina di segnale è questa attenzione all'uno intesa come l'unità delle componenti dell'essere umano, che per quanto riguarda la medicina tradizionale cinese sono tre e sono il corpo, il mente cuore e lo spirito. La cosa interessante è che la medicina tradizionale cinese, che è medicina più antica insieme alla Yurveda, è una medicina analogica, è una medicina che va a creare sintesi, che crea connessioni. Noi siamo più su un versante analitico, che è altrettanto interessante, ci manca però un po' il dono della sintesi. La medicina tradizionale cinese è molto improntata sulla sintesi e sulla parte analogica. Questa cosa per me è stata molto presente nella mia vita perché innanzitutto l'ho sempre vissuta su di me. Avete presente quando da bambini in realtà capite delle cose, tutti i bambini capiscono molte cose che poi purtroppo si dimenticano quando sono adulti. A volte però per esempio fare psicologia ti serve per ricapitolare un po' tutta l'infanzia, tutte le cose in cui tu hai passato, in cui hai creduto, che hai vissuto e un po' ritrovare questo. In realtà quando si è bimbi lo si sa che noi siamo uno, lo sappiamo benissimo, sappiamo che tutto è uno e più siamo piccoli e preverbali e più questa è una conoscenza profonda. I taoisti che sono per me gli scienziati più raffinati che il globo terrestre abbia conosciuto, avevano notato come in realtà nel mondo le strutture sono olografiche, cioè ci sono strutture ripetute, questo lo sanno bene anche i matematici, se lo sappiamo a studiare alcune costanti della natura, lo sapeva Fibonacci, lo sapevano una serie di matematici e fisici molto in gamba. I taoisti le avevano capito anche loro già 2500 anni fa e avevano paragonato l'essere umano, un essere tra cielo e terra, quindi parlavano già di microcosmo che ricalca un po' il macrocosmo. Avevano capito che così come nell'essere umano ci sono queste tre componenti di differente densità, queste tre componenti si ritrovano anche in natura perché erano dei grandi osservatori della natura, pensate che non avevano nessuno strumento di quelli che noi abbiamo oggi tecnologici eppure avevano capito la struttura atomica, la struttura dell'universo, la struttura dell'uomo e lo avevano fatto in maniera molto precisa e molto profonda, in maniera sicuramente ermetica, cioè una delle cose che più mi ha scioccato e che ho vissuto durante l'esperienza della scuola di Qigong qua a Milano con il maestro Li Xiaoming che consiglio a tutti di avere un'idea di chi sia questo personaggio, è referente per il Qigong del mondo, il Qigong è una delle cinque radici della medicina tradizionale cinese e lui porta in giro questa cosa, questa cosa che noi definiremmo fantascienza, tipo i superpoteri, una cosa del genere vista in maniera molto così grossolana e occidentale e lui mi ha dato tantissima conoscenza taoista, per farvi un esempio, uno dei testi che ha commentato che mi è rimasto più impresso dove c'è più dentro fisica quantistica, spiritualità, tutto messo insieme, scienza e mischiato, è un testo che si chiama Ru Yao Jing che è di 2.500-3.000 anni fa ed è un testo di 18 terzine, il maestro Li lo ha commentato in quattro giorni, di otto ore al giorno, questo è stato il livello, per cui 18 terzine, quattro giorni, otto ore ogni giorno. Di commento di che cosa significa una terzina, perché quando si parla di ideogrammi, adesso non ho una lavagna, ma grazie al mio maestro di Kung Fu di Tai Chi, sto studiando un po' gli ideogrammi classici, perché dietro l'ideogramma c'è tantissimo e la calligrafia è una delle radici del Kung Fu. Ho la fortuna di essere abbastanza dentro questo mondo, perché da circa 22 anni pratico Kung Fu, Shaolin e Tai Chi e ho la fortuna di avere un maestro che mi ha sempre ricordato che il Kung Fu è fatto, come la medicina tradizionale cinese, di più componenti, di cui il movimento è una. Lui dice sempre ricordatevi che chi pensa che il Kung Fu sia tirare pulci, pugni, calci, fare cadute, cose così, è molto grezzo. Dice quella parte lì è un quinto della cosa, poi c'è la storia, poi c'è la filosofia, poi c'è la medicina e poi c'è la calligrafia. Per cui queste sono le componenti in cui si dovrebbe studiare il Kung Fu e in cui il maestro Chan Su Yao, che è stato un maestro del mio maestro e brevemente anche il mio, era estremamente dentro questa cosa, perché aveva studiato nella Cina classica e questo era inscindibile. Ora allo stesso modo noi ci siamo persi un po' di pezzi in giro per la nostra storia, per la nostra storia medica soprattutto e io penso che si debba un po' recuperare questo, siamo in un momento in cui per andare avanti bisogna tornare indietro. Questo è un paradosso classico della vita, lo viviamo spesso, il dilemma della freccia è un po' così, quando noi scaldiamo una freccia, prima la freccia va indietro e più va indietro la freccia più è in grado di coprire distanza. Questa è una bellissima metafora, noi siamo qua dentro, nella medicina di segnale noi tiriamo la freccia indietro con estrema consapevolezza e siamo felici e pienamente presenti nel farlo. Io sono veramente contento di avere di fianco persone a cui posso credere consiglio a Guido, a Gabriele, per cose che io veramente non so e che non avevo mai avuto il coraggio di chiedere a nessuno, perché la cosa interessante ma che nessuno mai dice e che io porto qua anche come psicologo, sono un po' il portatore delle cose un po' strane e scomode anche, è il fatto che i medici, cioè all'interno della medicina c'è un'altissima competizione, questa è una cosa che non si dice mai, c'è un'altissima competizione e purtroppo anche un altissimo livello di invidia, per cui non succede quasi mai che un collega ti chieda questa roba qua, dicendoti, senti ma tu questa cosa qua come te la gestisci? Perché io non mi ricordo questa cosa. Io che non sono una persona che fa immunologia o reumatologia, però ovviamente lavorando sul paziente come uno, come corpo, mente, cuore e spirito, mi trovo spesso a affrontare anche problemi reumatologici e poter chiedere veramente schiettamente senza maschere, senza paure, una domanda molto diretta a Gabriele e ricevere un input, una risposta, una cosa che poi ti aiuta a procedere con la tua clinica ed è una cosa che magari non facevi prima perché ti scoccia fare quella domanda, perché in realtà pensi che l'altro pensi che tu dovresti saperlo quella cosa, perché è vero che in teoria tu dovresti saperlo. Se sapessi tutto, sapresti anche quello, ma non si può, ok? Non si può sapere tutto, questo lo sappiamo tutti e un'altra cosa che io porto molto avanti come messaggio è il rapporto medico-paziente e quello che può il medico imparare da lì, per cui il discorso del medico che è un tuttologo, che deve dire sempre sì, che deve avere sempre la risposta pronta, è una cosa che appartiene alla vecchia medicina. Nella medicina di segnale, il segnale è anche il non lo so signora, io non lo so. È importante anche dire questo, così come è anche importante prendere e far prendere la responsabilità di tutto ciò che accade nella terapia e essere il più possibile presenti. Quest'anno a Livorno ho parlato del momento presente e del rapporto col paziente nel presente. Quando il paziente porta qualcosa che anche per noi è scomodo, quando ci mette a disagio, e cosa fai quando ti senti a disagio? Ho portato un po' questo e la mia risposta, che non è mia, è stai nel disagio. Impariamo a stare nel disagio, a immergerci, profondamente dentro lì e scoprire che non succede niente. In realtà è così sempre nella vita. Il mio maestro di medicina, ma anche di vita, mi diceva sempre guarda che non succede niente, al limite muori, più di così non c'è. Ok, è questo. Oggi ci vuole qualcuno che abbia il coraggio di dire anche questa cosa qua, cioè la morte è umana, è necessaria, è presente. Oggi siamo nella follia parossistica che vede il medico come responsabile della vita ad oltranza. Gli esseri umani non sono fatti per vivere ad oltranza, gli esseri umani sono fatti per nascere, crescere, vivere e morire. E questo è il processo in cui si potrebbe lavorare molto su che cosa? Sulla qualità di queste cose. Sulla qualità. Invece più noi scotomizziamo un pezzo, per esempio la morte, per cui non si può parlare di morte, ok? Non si può parlare di questa cosa. Io tra l'altro non parlo neanche di morte ma parlo di lasciare il corpo, perché non è che si muore. I taoistici l'hanno detto chiaramente. solo chi pensa alla morte muore. Gli altri semplicemente si trasformano, ok? Per cui quello che il bruco chiama la fine del mondo gli altri lo chiamano farfalla. Questo è. E questo è nella natura se lo sappiamo osservare. Così come nella natura c'è l'acqua e l'acqua è ghiaccio quando è densa come il corpo dell'essere umano, è acqua corrente quando scorre come il mente cuore, è vapore quando è più leggera dell'aria, come lo spirito. Credo che siamo in un punto in cui io mi prendo la responsabilità di parlare di spirito, nella medicina, da psicologo e da medico. Mi sono preso questi due pezzi di carta solo per non farmi vessare da chi questi pezzi di carta ce li aveva, perché siccome sono abbastanza un tipo legno, si direbbe nelle logge di medicina tradizionale cinese, di solito sono, o stafisagria per chi parla il linguaggio omeopatico, sono abbastanza sensibile un po' alla prevaricazione, all'ingiustizia, a questo tipo di cosa. Per cui quando facevo psicologia, una volta che stavo parlando con dei medici per dei pazienti, mi ricordo che un medico mi guardava e mi disse ma sei tanto a lei che cosa sta parlando, che tanto è uno psicologo. Lì dentro mi scattò qualcosa e gli stessi, vabbè senti, diventerò anche medico così parlerò a ragione veduta. Ho che non andare a cena con degli ingegneri a parlare dei... Però alla fine ti tocca fare... Su fonte di Genova ti tocca fare anche cinque anni di... Per cui la cosa interessante della medicina di segnale che io porto è un po' ritorno all'uno e iniziare a lavorare su tutti i tre tesori. Lavorare sullo spirito, cosa significa? Non significa lavorare con la religione, non significa entrare in questo tipo di discorso, assolutamente no. Significa lavorare sul senso, lavorare sul senso profondo delle cose e lavorare su un tipo di intelligenza che ovviamente noi medici non approfondiamo per definizione nella nostra pratica clinica, che è quella intuitiva. O meglio, dovremmo approfondire in realtà. I grandi medici hanno sempre avuto una grande intuizione, però oggi un po' l'evidence-based medicine ha un po' tarpato le ari in questo senso. Io credo che dovremmo un po' commissionare l'EBM, l'evidence-based medicine, con l'EBM, l'intuition-based medicine, che ha un senso anche quello, dobbiamo dirlo. E questa è una cosa che viene portata avanti con rigore, con scienza, con amicizia e con gioia. Quindi grazie a tutti, grazie Luca. Grazie Daniele.